E salve a tutti ragazzi da PierreDarkNight91 A grandissima richiesta ci troviamo nella terza stagione su This War of Mine Una stagione che potrà durare più di 50 puntate come ne potrà durare solo 5 perché, come promesso, giocheremo alla massima difficoltà Vi faccio vedere le impostazioni Giorni fino a cessate il fuoco 80 Intensità del conflitto alta, ovvero tutti i civili Tutte le persone saranno stili Arriva l'inverno a metà e vi dico anche che il baratto sarà difficilissimo Asprezza inverno temperato Lunghezza inverno lunga Sceglieremo solo due personaggi per aumentare la difficoltà perché se ce ne muore uno abbiamo perso e dobbiamo essere bravi a tenerli in vita ma soprattutto aspettare l'arrivo di nuovi personaggi Non selezioneremo Bruno che ha una capienza dello zaino altissima ma sceglieremo personaggi che non abbiamo mai utilizzato come Marin e se non sbaglio non abbiamo mai utilizzato Zlata Scegliamo Zlata e Marin Adesso dobbiamo solo scegliere le zone Ovviamente minimo zone 20 e ovviamente ne sceglieremo solo 20 Meno zone ci sono più siamo costretti ad andare di nuovo nelle parti pericolose Non selezioneremo solo un luogo semplice La casa tranquilla La casa delle persone anziane Lì è difficilissimo morire Anche in questa difficoltà Quindi non la mettiamo Ragazzi la difficoltà è al massimo Ho fatto di tutto per cercare di farvi divertire Se riusciamo a sopravvivere Dopo 80 giorni Ragazzi Voglio mamma mia Un sacco di like Mi raccomando Supportate la serie Anche se l'ultima puntata della seconda stagione Non ha ricevuto i like che ho voluto Come potete vedere Vi porto lo stesso Ciò che voglio Perché la prima cosa E che il sottoscritto si diverta Mamma mia che casa Non l'abbiamo mai vista Bellissima E adesso dobbiamo incominciare A rovistare dentro casa Sperando di trovare materiali buoni Proviamoci Vediamo cosa dice Vediamo cosa ci dice Leggiamo Forza Inizia una stagione grandiosa La guerra Imperversa Da mesi E la città è sediata Ed è stata Ridotta A una distesa di rovine A causa Dei continui Borbandamenti Uscire durante il giorno E' come invitare i cicchini A fare pratica Di tiro a bersaglio Le scorse Le scorse Le scorte Scarseggiano E quei pochi aiuti Che raggiungono La città Vengono sequestrati Dai più spietati E meglio armati Pochi residenti Sono riusciti a fuggire E la luce sullo schermo Non mi fa leggere Vabbè scusate ragazzi Gli sfortunati Che hanno preso L'ultimo Convoglio Di rifugiati Devono cavarsela Da soli La gente comune Che non conosce Tecniche di sopravvivenza Si rintana Fra le rovine E sopravvive Grazie al Reciproco Aiuto Va bene Allora Marin E' già gravemente malato Gravemente malato Bevitore Di caffè E' un tutto fare Ok si è rotto qualcosa Io posso aggiustarlo Avete il giro Robaccia inutile Avete in giro Robaccia inutile Io posso trasformarla In qualcosa di utile Va bene Va bene Mentre Zlata Grande carisma Quindi sarà molto utile Per il baratto Non lo so Allora Abbiamo già un problema Abbiamo Marin Abbiamo Marin Gravemente malato E mi sono dimenticato Che i controlli Della PS4 Su questo gioco Sono un qualcosa Di inguardabile Va bene Abbiamo già un banco Da lavoro Ah Abbiamo Mamma mia Com'è bella Questa casa Non l'ho mai vista Non l'ho mai vista Davvero Grande eh E' grande E' grande Ok Andiamo avanti Sfascia tutto Nel frattempo Vai Zlata Più veloce della luce Scendi giù Qui ci serve Una pala Mamma mia Che casa Signori Scendi Qui che si può fare Nulla Bella questa zona Ragazzi Che bella casa Non l'ho Non l'avevo mai vista Non l'avevo mai vista Nel frattempo Marin Eh cacchio ragazzi Vediamo se troviamo Qualche Attrezzo Comunque qualche parte Per poter costruire Già una pala Perché se no qua Ok Prendiamo tutto Qui serve Eh ragazzi Dobbiamo scavare con le mani Ok Nel frattempo Con Zlata Vediamo di Come si sale Qui sopra Mamma mia Che casa Tutta rotta Ragazzi mi raccomando Supportate la serie Lo faccio per quei pochi Che me l'hanno chiesta Pochi Diciamo Di 28.000 iscritti 1000-2000 Mi hanno chiesto Questa serie In continuazione E vediamo un po' Se la supportate Mamma mia Che casa strana Non mi trovo Eh Abbiamo fatto il giro Abbiamo fatto il giro Bene Vai Zlata Trova qualcosa di utile Ok va bene Niente di che Come potete vedere Anche Ciò che si trova È davvero molto poco In questa difficoltà Qui serve Di sicuro Il grimaldello Comunque Ho il piede di porco Scendiamo da qui Vediamo Mamma mia Che casa strana Vediamo Non c'è nulla Scendiamo giù Si può scendere giù Vai Zlata No Non si può scendere giù Per scendere giù Non possiamo far nulla Va bene Mamma mia Qui bisogna fare Dei giri incredibili Per arrivare Da una parte all'altra Eh Mi sa che ha finito Di scavare Quindi Scaviamo Vai Ok Quindi sicuro Serve il piede di porco Il grimaldello No 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 Bene 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 Vediamo se riusciamo subito A farci una pala Vediamo Vediamo Vai vai Marin Già sta crepando Quindi ci serve subito Ci serve subito Delle medicine Allora Dove mettiamo I letti Io direi Di metterli No su no No Dobbiamo aprire Dobbiamo aprire Dobbiamo prima aprire Quindi ci costruiamo Laboratorio dei metalli E lo mettiamo E lo mettiamo Mamma mia Qui A fianco Lo mettiamo a fianco Nel frattempo Zlata Ci mette Un bel po' di tempo Vediamo Dobbiamo fare la palla Ragazzi Subito la palla Dobbiamo farci i letti Dobbiamo Dobbiamo spalare giù Per mettere i letti I letti si mettono sempre giù Perché Perché si sta più caldi Attualmente sono 17 gradi Siamo fortunati Vai con la pala Zlata Sta finendo Così possiamo già muoverci Da una parte e l'altra Dai Dobbiamo cercare di resistere Almeno 20 giorni Dopo il ventesimo giorno Se abbiamo fortuna Arriva un nuovo personaggio E se abbiamo fortuna Arriva Bruno Sperando Due personaggi Alla massima difficoltà Ne muore uno Salutiamo la serie Quindi Mamma mia Mamma mia signori Abbiamo fatto la palla Vediamo se possiamo fare anche Il piede di porco Sì Certo Zlata Ha fatto ciò che doveva fare Adesso Dobbiamo Velocemente Spalare giù In modo Da mettere i letti Vai spala Vai Grande Zlata Grande Zlata Ragazzi Lì Da voi Che tempo fa Fa ancora freddo C'è ancora la neve Qui Non c'è più la neve O almeno Ha nevicato sempre poco Però Però fa un freddo Perché ti siedi Comunque fa un freddo Incredibile Vai aprire Vediamo se siamo fortuna Due diamanti Fortuna La fortuna La fortuna Mamma mia Ma questa casa Mi ricorda Siamo vicino a un parco giochi I letti adesso li possiamo mettere qui Io direi di metterli lì Vediamo se possiamo Non possiamo più farceli Ho fatto una cacchiata Quindi Ricordiamoci Dove era Che cos'è questo? La notte È arrivata la notte Ok Ci facciamo solo una notte Oggi ragazzi La prima puntata Voglio vedere come va Poi Dalle prossime Faremo due Barra tre notti Però Vi porterò questa serie Una volta alla settimana Quindi Zlata Ha una capienza Dello zaino A dodici Quindi va a rovistare lei E fa la guardia Marine Che è gravemente malato E ci servono delle bende Allora Abbiamo Il cottage Abbandonato E abbiamo Il cottage Borbandato Mucchio di medicine Qui Una limitata Quantità di medicine Quindi io andrei Nel cottage Non dice pericolo Quindi noi ci andiamo Ci portiamo Piccone Piccone Piede di porco E pala Mannaggia Minecraft Mannaggia Eppure non ci gioco Mannaggia Ok Signori Teniamoci pro No 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 Eh Già ho fatto un errore Eh c'è qualcuno Si sta avvicinando Attenzione Attenzione Piano È un topo Fortunati Devo stare attento Perché con l'analogico Faccio delle stronzate Eh ho perso di nuovo la mano Non ci voleva eh Un po' che mi sono fermato Ci prendiamo tutto Ma vediamo prima Se troviamo delle medicine Apri Allora C'è già un aspetto positivo Abbiamo cibo Acqua Allora la legna Ci deve stare per forza Ci portiamo il cibo Ci portiamo Le carote Ci portiamo l'acqua Ok C'è qualcuno lì su eh Occhio ci servono le medicine però Zucchero erbe Non ci interessano Vediamo chi è lì sopra Attenzione Le medicine Ok Fortunati Eh fortunati No che ho fatto Gravemente Ferito o malato era Non ricordo Allora facciamo una cosa Ci portiamo Sia questo Che questo Ritorneremo Ok Chi è lì sopra Topo Dimmi che sei un topo È un topo Va bene Spaliamo qui Abbiamo la pala Sono le dieci di sera Abbiamo ancora parecchio tempo Possiamo ancora aprire dentro casa Abbiamo Il piede di porco Quindi nessun problema Vediamo qui se troviamo qualcosa di utile C'è una persona morta Quindi quando troviamo persone morte O prendiamo subito O poi Li perdiamo Nella prossima nottata E quindi dobbiamo assolutamente prendere tutto questo Ehm Prendiamo Ehm Già ho perso un po' Già ho perso un po' la mano eh Ragazzi se avete notato Bisogna stare molto attenti Allora il caffè ci può servire I materiali li dobbiamo riprendere Le parti di armi Assolutamente Ok Riandiamo a mettere Tutto qui Scambiamo un po' Allora Attualmente lasciamo Questo Lasciamo questo Lasciamo le sigarette Ok Ci portiamo La legna L'acqua Mi sono dimenticato Ho sbagliato Ho portato lo zucchero C'era l'acqua Spero proprio di sì 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 C'era c'era Ok E adesso ragazzi Vediamo un po' Ehm Ci portiamo altri materiali No secondo me All'inizio è meglio la legna Sì all'inizio è meglio la legna Ragazzi C'è altro qui Oh il diamante E' vero c'è pure il diamante Per il baratto Quindi che facciamo Lasciamo la legna E ci portiamo il diamante Va bene Vediamo lì sopra Eh non mi ricordo Se era gravemente malato O gravemente ferito Se era gravemente malato Allora Facciamo una cosa Allora Questo abbiamo già preso tutto Sfasciamo qui In modo che La prossima volta Non siamo costretti A portarci di nuovo Il piede di porco Sono Le undici e mezza Di sera Ok Apri Qui c'è Qualcosa da leggere L'abbiamo già letta Nei Nelle vecchie serie Vediamo qui cosa c'è Se c'è proprio qualcosa Di importante La prendiamo Qui c'è un mucchio Di materiali e parti Incredibile Sperando che nelle prossime Notate Non ci sono Persone ostili Ok c'è davvero di tutto C'è davvero di tutto Ritorneremo in questa zona Possiamo uscire Corri all'uscita Abbiamo preso Tutto Abbiamo riempito al massimo Tranne Il diamante Ma Ci può servire a molto C'è già una persona morta Occhio Perché se c'è una persona morta Vuol dire che arriva qualcuno Ragazzi Io chiudo qui Questa prima puntata Abbiamo fatto una sola notte Nella prossima settimana Vi porto una prossima puntata E Vi porterò Due Barra tre notti Secondo giorno Abbiamo i materiali Da dove è entrata? È strana questa casa eh Marin è pallido E tossisce in Tossisce in Continuazione È male È malamente È malamente Malato Il cibo lo abbiamo Sta andando Sta andando già Cioè Entra da qui Ragazzi Ma che casa è? Dentro il bagno C'è una persona morta Avete visto? Ma che casa abbiamo? Oddio Che casa Guardate che casa Ragazzi è una casa bruttissima eh È davvero molto brutta È difficile da muover Da muovere Va bene ragazzi Io chiudo qui Tanti bei pollicioni in su Fatemi vedere il supporto Per questa serie Un bacione a tutti Da Pierre Dark Knight 91 Signori Oggi si decide la prima posizione Big match Hellas Verona Napoli E poi Partita Ad eliminazione Diretta in Coppa Italia Contro L'Udinese Vi ricordo che il Calcio mercato È aperto Ma per poter Acquistare Qualche giocatore Dobbiamo sperare In un'offerta minima Di 50 milioni Per Nicola Leali Ma adesso concentriamoci Su questa partita Perché voglio fare Il sorpasso